Abbiamo già dedicato un video a Luigi Pirandello, grande scrittore della nostra letteratura nazionale e abbiamo visto soprattutto la sua storia, la sua vicenda umana legata però a doppio filo anche alla storia d'Italia perché abbiamo detto che soprattutto da un certo punto in poi la strada di Pirandello si legò anche alla strada del fascismo di cui fu un intellettuale non proprio organico perché fatto un po' amore suo ma un intellettuale vicino al regime, compromesso per certi versi con il regime ma anche come vedremo oggi in realtà filosoficamente molto autonomo e molto diverso dall'ideologia del regime oggi infatti dopo aver visto questo aspetto più storico parleremo del Pirandello letterato e della sua filosofia vera e propria una filosofia che lo stesso Pirandello cercò di indagare, cercò di presentare in alcuni saggi, in alcuni articoli anche e che poi chiaramente emerge da molte sue opere perché tutte queste opere furono scritte con l'intento di far emergere una precisa visione della vita e dell'uomo oggi enucleiamo questi punti di riferimento cercando anche dei collegamenti con la filosofia dell'Ottocento e del Novecento e lo facciamo dopo la sigla, andiamo a cominciare un socio di caffè come sempre nella solita tazza con la scritta andiamo a cominciare regalatemi dai miei ex studenti come ci sono come sempre Topolino, Tostoi, Batman, Deandre che di qua è il mostro per lo su Cuscino il bottone coi centomila iscritti e un altro mostrinciato qui alle mie spalle poi ci sono ovviamente anch'io, mi chiamo Armando Ferretti sono un insegnante di storia e filosofia e da quattro anni quasi su questo canale ogni santo giorno, salvo forse Natale e Caporanno io realizzo un video o un podcast di storia, di filosofia e di argomenti affini che trovate su questo canale, che trovate anche su internet in altri modi se vi interessa non date un'occhiata già subito nella descrizione di questo video oppure nella pagina centrale del canale trovate davvero molte, molte risorse perché ci sono più di 1400 video al momento o quasi, più non lo so, forse 1400 comunque oggi facciamo un video che non riguarda tanto un filosofo propriamente detto o un personaggio storico propriamente detto un argomento che non trovate risolto sui manuali di storia o di filosofia ma è un argomento che in realtà si lega più di quanto ci aspettiamo alla storia e alla filosofia e questo argomento è l'opera, il lavoro di Luigi Pirandello uno dei grandi autori della nostra letteratura novecentesca studiato ampiamente, citato da tutti gli studenti delle superiori all'esame di stato, è uno dei grandi cardini dell'esame, no? ci sono Svevo, Pirandello, a volte D'Annunzio ma mica sempre Montale a volte ma mica sempre insomma sono questi quelli che tornano se poi ci si orienta sull'ottocento c'è Leopardi, c'è Verga, ecco però insomma non sono tantissimi e Pirandello è uno di questi mostri sacri ma appunto come dicevamo l'altra volta in descrizione vi lascio il link al primo video che gli ho dedicato è stato un mostro sacro che ha fatto i conti con la sua epoca, inevitabilmente e ha fatto dei conti anche in maniera un po' controversa l'altra volta vi ho parlato dell'adesione al fascismo di Pirandello un'adesione che fu poi, come vi dicevo, un po' amor suo un po' anche critica a volte Pirandello sembrava ammirare alcuni aspetti del fascismo e criticarne fortemente altri però fu un'adesione perché Pirandello firmò il manifesto degli intellettuali fascisti si proclamò fascista e fu anche per certi versi esaltato in qualche aspetto dal regime dico in qualche aspetto anche qui in modo un po' ambiguo perché se poi andiamo a vedere come faremo oggi il pensiero filosofico di Pirandello che emerge anche nelle sue opere è tutto tranne che fascista infatti per questo anche i critici hanno avuto qualche difficoltà a cercare di comprendere questa adesione da parte di Pirandello a questo regime che esaltava l'individualità un io forte che esaltava un senso dello stato forte una realtà univoca addirittura partito unico più univoco di così è difficile quando Pirandello invece nelle sue opere esalta il pluralismo ma non solo il pluralismo ma proprio la frammentazione, il relativismo come condizione della vita cercheremo oggi di dare anche qui qualche possibile chiave di lettura premessa necessaria prima di cominciare io sono un professore di lettere non insegno letteratura quindi non usate questo video come un ripasso per preparare l'interrogazione di letteratura su Pirandello come un ripasso per l'esame di maturità io sono un insegnante di storia e filosofia quindi inevitabilmente per mia forma mentis trascurerò anche perché non ne ho del tutto le competenze gli aspetti più letterari più stilistici di Pirandello quelli lascio ovviamente ai miei colleghi però magari da questo video potete dare qualche spunto per collegamenti visto che all'esame di stato all'esame di maturità come si usa ancora a dire voi sapete che all'orale bisogna muoversi all'interno delle varie materie trovando i collegamenti tra punti salienti di vari argomenti fatti nelle diverse discipline beh, un po' per il fascismo che consente un collegamento con la storia un po' per quello che diremo oggi che consente un collegamento con la filosofia e poi ovviamente con altre discipline magari questo video potrebbe esservi utile per presentarvi il pensiero di Pirandello che è anche abbastanza elaborato lui stesso si riteneva un po' filosofo anche se appunto poi aveva deciso di presentare, spiegare la sua filosofia soprattutto tramite opere di narrativa non solo in realtà perché qualche saggio lo scrive ma soprattutto tramite opere di narrativa però dietro c'era una riflessione filosofica dicevo, per presentare questo pensiero io ho deciso di strutturarlo in tre grossi punti chiave che adesso analizzeremo che poi in realtà si intrecciano molto tra di loro ma per così, finalità didattiche mi sembra utile anche mettere questi tre punti salienti sul tavolo subito adesso una alla volta li affronteremo il primo è il rapporto tra realtà e illusione tra forma e vita come a volte lo definisce anche Pirandello che cos'è la realtà di Pirandello che cos'è la forma che cos'è la vita e come l'uomo si relaziona con questa realtà come vedremo parleremo della famosa Lanternino Sofia che emerge nel fumatio a pascale e in generale della visione del mondo, della vita, della realtà da parte di Pirandello questo primo punto che iniziamo subito a vedere appena finisco questo elenco secondo punto importante il ruolo dell'io dell'identità che ovviamente si relaziona perché siamo io e il mondo in questo mondo quindi il modo in cui è vero il mondo si riflette anche nel modo in cui concepisco l'io e viceversa ecco l'io lo vedremo affrantumato in Pirandello e questo è un eco di tante riflessioni che si stanno facendo nel corso del novecento in Europa e non solo in Europa dal punto di vista filosofico e quindi affronteremo anche questo aspetto e lo vedremo insomma citeremo anche alcune opere se i personaggi in cerca d'autore l'Enrico IV e tante altre il fumatio a pascale stesso uno nessuno centomila e così via terzo aspetto importante l'umorismo sapete che lo si studia sempre ultimamente negli ultimi decenni in italiano l'ultimo anno scrive questo saggio l'umorismo e perché l'umorismo che senso ha all'interno di questo panorama di questa visione del mondo di Pirandello anche di questo parleremo ma partiamo subito dalla visione della realtà allora che visione ha Luigi Pirandello della realtà beh semplicemente la realtà non esiste potremmo anche risumere così il concetto o meglio non esiste una realtà oggettiva non esiste una realtà come che so l'età moderna ci ha illuso di pensare una realtà che può essere studiata che è uguale per tutti che non dipende dal soggetto e che è fondata su alcuni punti cardine inamovibili no tutto questo non esiste la realtà è effimera la realtà è fluida la realtà è soggettiva niente è chiaro niente è limpido o meglio niente è intersoggettivo ognuno vede il mondo a modo suo ognuno fotografa il mondo a modo suo ognuno plasma in un certo senso il mondo a modo suo e qui è utile anche già anticipare il rapporto tra l'io e il mondo tra ciò che io sono e come io mi definisco e il modo in cui definisco o vedo il mondo ecco questo rapporto è estremamente complicato secondo Pirandello estremamente anche tragico per certi versi perché tutta la vita è in fondo una tragedia che scivola rapidamente verso l'umorismo e vedremo anche cosa vuol dire questo verso la fine di questo video il mondo è una selva oscura potremmo anche dirla così in cui noi ci muoviamo a tentoni senza avere più punti di riferimento senza avere più chiavi interpretative chiare senza avere dei baricentri delle bussole è proprio un mondo non solo oscuro ma anche che ci impaurisce che ci spaventa perché in questo buio c'è la morte in questo buio c'è la mancanza di senso dell'essere in questo buio c'è l'essere spersi sembra quasi in questa visione che emerge in tante opere di Pirandello di sentire sicuramente l'eco di Nietzsche se vi ricordate quella famosa pagina della Gaia Scienza che abbiamo citato tante volte magari in descrizione vi metto il link per andarvi a recuperare la spiegazione su quell'argomento quella famosa pagina della Gaia Scienza in cui Nietzsche presenta la morte di Dio chi c'è a presentare e ad annunciare questa morte di Dio è il folle che arriva all'interno di un mercato con una lampada guarda caso con una lanterna e la scaglia a terra la rompe prima di annunciare al popolo stupidito e ridente che Dio è morto e che noi l'abbiamo ucciso e a un certo punto appunto preso dal fervore di questo annuncio il folle di Nietzsche dice anche come abbiamo potuto fare tutto questo come abbiamo potuto macchiare di sangue i nostri coltelli come abbiamo potuto spezzare la catena dal nostro sole cioè noi non siamo più un pianeta che gira attorno al sole e se il sole metaforicamente era Dio siamo un pianeta che in un certo senso ha rotto la sua forza di gravità la sua catena che lo teneva legato al sole e adesso vaga nell'universo nel buio e freddo universo disperso ecco noi siamo così noi abbiamo vissuto per secoli noi come uomo occidentale intendo abbiamo vissuto per secoli con un sole che ci rischiarava che ci illuminava la via e questo sole era la fede cristiana ad esempio o era qualsiasi altra forma di fede che avevamo la fede nel progresso la fede nella scienza la fede nel nel socialismo la fede in quello che volete voi ognuno aveva la sua fede diversa e però queste fede sono morte e da quel punto in poi se le fede erano queste grandi luci questi grandi soli che ci illuminavano adesso non c'è più un sole siamo nel buio navighiamo davvero a tentoni questo discorso che sto riprendendo da Nietzsche si ritrova con parole levemente diverse ma non così tanto diverse proprio in Pirandello nel Fumati a Pascal uno dei suoi più celibri romanzi tra l'altro uno dei primi anche ad aver successo il primo grande successo letterario di Pirandello se avete presente mi ha parlato anche nel video scorso c'è a un certo punto proprio un discorso del genere che è passato alla storia che viene citato da tutti i manuali che è appunto il discorso sulla cosiddetta Lanternino Sofia sarebbe filosofia del Lanternino cioè un personaggio appunto del romanzo dice questo noi siamo come appunto delle persone che girano con un Lanternino cioè una piccola lanterna come Diogene per intenderci o proprio come il folle di Nietzsche solo che questa lanterna fa poca luce quindi noi vediamo un po' attorno a noi abbiamo questo buio immenso che è angosciante che è problematico che ci impaurisce perché è il buio della morte del terrore della mancanza di senso quel buio angoscioso di cui ha parlato anche Kierkegaard no l'angoscia del grande vuoto quello lì sta parlando questa cosa qui sta parlando Pirandello dell'angoscia esistenziale quindi anche qui collegamento ulteriore con Kierkegaard in questo grande buio noi giriamo con la nostra lanternina e rischiariamo un po' attorno a noi perché è una lanternina quindi fa un po' di luce ma non è che vediamo tanto in là vediamo quel poco che ci basta per orientarci ma ovviamente ognuno ha una sua lanternina diversa quindi io ho una lanternina che illumina un po' la mia via ed ha un pochino di senso un barlume proprio barlume è la parola giusta di senso a quello che ho attorno ma poche cose davvero non mi spingo più in là di quel poco che vedo ma anche tutti gli altri uomini e donne che vivono nel mondo hanno la loro lanternina e anche loro vanno un po' a tentoni vedono un po' ma non osano andare tanto oltre perché sono incerti perché queste lanternine illuminano poco una volta c'erano i lanternoni dice sempre in questo passo cioè lanterne molto più grandi che illuminavano e qui c'è riferimento al sole che vi facevo prima con Nice cioè che so la fede cristiana era una di queste grandi lanterne che illuminava la vita non solo mia ma di tanti perché i lanternoni rischiaravano il mondo per tante persone e la forza di quelle grandi ideologie di quei grandi valori di quelle grandi fedi era proprio questa di rischiarare la strada a tanti ma quelli i lanternoni sono finiti l'epoca dei lanternoni è finita adesso è l'epoca dei lanternini piccole verità individuali che mi aiutano un po' a tirare a campare ad arrivare a sera e però valgono per me non valgono per gli altri come quelle degli altri valgono per loro non valgono per me non c'è più un lanternone che illumina tutti ognuno ha il suo ha il suo lanternino e va avanti questo cosa vuol dire che la realtà è sempre soggettiva che non esiste un modo di intendere la realtà che sia condiviso che sia assoluto di cui ci possiamo fidare il tempo degli assoluti platonici o cristiani è finito Dio è morto Platone è morto sono morti tutti non abbiamo più niente se non noi stessi questo sembra dice Pirandello e questo ci lascia ovviamente in crisi ci lascia in crisi perché questo vuol dire che chissà se la mia lanterna coinciderà o in che misura un pochino si sovrapporrà a quell'altrui chissà se la mia visione del mondo potrà entrare in contatto con le visioni del mondo altrui chissà se troveremo un aggancio non è detto non è facile non è scontato chissà se la mia poi lanternina non mi trae un inganno o non mi fa inciampare perché anche questo ce l'ho a dire che queste lanternine sono flebili vanno e vengono siamo davanti a un relativismo ma direi anche un po' di più molti libri italiani parlano di relativismo culturale eccetera conoscitivo da questo punto di vista sì certo una forma di relativismo ma io accentuerei un altro po' il tema non è solo relativismo questo è prospettivismo e di nuovo Nietzsche vi ricordate Nietzsche quando diceva non esistono i fatti solo le interpretazioni anche qui vi lascio un link in descrizione cosa vuol dire non esistono i fatti ma solo le interpretazioni che non c'è nulla di oggettivo più ma niente di niente ed è solo il modo in cui io interpreto un eventuale fatto a fare il fatto e quindi i fatti sono diversi da persona a persona le stesse cose hanno significato completamente diverso da persona a persona perfino il mio io diceva Nietzsche è frutto di interpretazione e su questo guardate che Pirandello è completamente d'accordo anche il mio è fluido anche il mio è qualcosa che non si riesce ad afferrare infatti per spiegare ulteriormente questo aspetto vi dicevo Pirandello introduce i concetti di forma e vita cos'è la vita? la vita è una sorta di energia di pulsione ma caotica e irrazionale che non riesco a definire che mi sfugge via la mia vita non è inquadrabile è davvero qualcosa di fluido di contraddittorio di irrazionale poi io proprio perché non riesco a dominare questo flusso della vita cerco di diciamo così irregimentare questo flusso dandole una forma è come se la vita fosse un liquido che si spande dappertutto e non sai che forma i liquidi non hanno forma ma io tento di metterla dentro un recipiente quest'acqua tento di metterla dentro una bottiglia in modo che abbia una forma proprio chiara definita stai lì e così ti posso possedere ti posso capire ti posso inquadrare se hai una forma non mi sfuggi più se invece sei che so un gas o un liquido che spandi di qua e di là non riesco neppure a capire bene cosa sei così facciamo con la vita la vita è questa energia questa pulsione potremmo dire quasi questo slancio vitale si sente ogni tanto anche qualche eco di Berson vi lascio un link in descrizione nella riflessione di Pirandello ma che noi facciamo uno sforzo per cercare di inquadrare per cercare di plasmare per cercare di inquadrare in una certa forma le forme sono queste sono modi di fermare il flusso della vita ma sono ovviamente modi diciamo così decisi dall'uomo chi lo sa se sono i modi giusti non esiste un modo giusto anzi sono modi che noi imponiamo un po' a caso un po' a tentativi un po' a soggettivismo tramite questa piccola lanterna che un po' mi fa tentare di inquadrare in un modo piuttosto che in un altro le cose ma chissà se le cose sono davvero così o se ha un senso quello che sto facendo perché io navigo nel buio chiaramente è una visione anche piuttosto pessimista quella di Pirandello è una visione post-niciana diciamo è la visione di chi dal punto di vista esistenziale si trova sperso vi ripeto sicuramente un fortissimo influsso di Nietzsche ma anche influsso di Kierkegaard che se vi ricordate quando aveva parlato delle scelte di vita degli stili di vita tra la vita estetica la vita etica la vita religiosa aveva inquadrato questa difficoltà dell'uomo nel nulla di fare i conti con le proprie scelte scelte che sembrano non aver direzione faccio una scelta di un tipo arriva uno scacco faccio una scelta di un altro tipo arriva un altro scacco e per Kierkegaard l'unica soluzione era Dio se vi ricordate ebbene Pirandello ritiene che anche Dio sia morto che anche quella via di fuga quella fede in Dio sia finita non ci sia più spazio per tutto questo sembra di sentire qualche cosa anche degli esistenzialisti francesi per certi versi che verranno un po' dopo rispetto a Pirandello anche se poco dopo perché sono poco più giovani di Pirandello però capite il clima è quello dell'Europa di inizio novecento un clima di crisi l'Europa della crisi è l'Europa anche della crisi dell'io della crisi dell'identità della crisi della visione del mondo perché per adesso abbiamo parlato soprattutto di visione del mondo di visione della realtà la realtà non c'è più non è più una realtà univoca oggettiva sono miliardi di realtà miliardi di frantumi come un vetro spezzato attraverso cui io vedo cose sempre diverse sempre frastagliate questo tema risuona pesantemente anche quando parliamo di identità personale e di io perché? perché se la vita è un fluire è un fluire inarrestabile e irrazionale a cui io cerco di porre dei paletti questo lo faccio sia nei rapporti col mondo sia nei rapporti con me stesso anzi diventa ancora più gravoso quando poi questo tentativo di mettere i paletti lo rivolgo a me stesso oppure devo farlo o mi sento chiamato a farlo perché la società impone questi paletti e nel caso dell'io questi paletti cosa sono? sono quello che solitamente quando si parla di pirandello viene chiamato le maschere cos'è una maschera? una maschera è per come ne intende pirandello un modo attraverso cui io mi autodefinisco in chiave sociale visto che io non so cosa sono io sono un fluire io sono un io contraddittorio un io spezzato un io che non so neppure io cosa sia e qua anche se pirandello poi non insiste sulla psicanalisi in realtà si sente l'eco di tante riflessioni anche psicanalitiche dell'epoca con una psiche che è fatta di cose ignote in cui l'uomo non è padrone in casa propria come diceva Freud beh questo lo si vede anche sicuramente in pirandello io non so chi sono alla fine io non so che faccia ho e però una faccia devo averla devo definirmi soprattutto per gli altri non solo per me stesso ma ancora di più per gli altri gli altri vogliono mi chiedono di avere una faccia e allora visto che non so che faccia ho visto che non so quali siano i contori della mia faccia mi disegno una maschera che mi appiccico sul volto una maschera che è realistica ma no perché in realtà io non ho un volto in realtà io non ce l'ho una faccia è troppo fluente è come se non avessi la pelle ma fosse qualcosa di malleabile quindi io potessi cambiare faccia in ogni istante ma la società vuole che io abbia una faccia allora mi dico beh mi impongo sopra una maschera che è quella maschera che viene in conto alle varie convenzioni sociali di fatto no questa operazione però genera un conflitto interiore perché se io mi impongo una maschera cioè mi autodefinisco o mi sento imposta dagli altri una maschera questa maschera mettiamo che sia anche parzialmente legata al mio fluire interiore ma è comunque una parzializzazione è comunque una semplificazione è comunque una violenza che faccio a me stesso anche solo che so fissare una maschera su cosa sono stati in un certo momento vuol dire negare il mio fluire il mio cambiamento pensiamo ad esempio visto che stiamo citando qualche opera pensiamo a un'opera a cui io sono personalmente particolarmente legato perché l'ho sempre trovata una delle opere più belle di Pirandello tra l'altro mi dispiazza anche che alle superiori di solito non venga affrontata che è l'Enrico IV l'Enrico IV è un'opera teatrale non so non è una commedia è una tragica è una tragedia tra l'altro con qualche legame storico perché l'Enrico IV citato nel titolo è l'Enrico IV imperatore tedesco quello di Canossa che abbiamo citato anche in storia vi lascio un link in descrizione solo che non è veramente l'Enrico IV di Canossa è un personaggio un uomo che adesso non voglio raccontarvi troppo la trama ma facciamola breve per una serie di vicissitudini durante una festa in maschera in cui è mascherato dall'Enrico IV appunto medievale perde la memoria e ritiene di essere davvero Enrico IV poi in realtà capisce non essere veramente Enrico IV e non vi svelo come va a finire la trama però capite in quel caso lui vive in una sorta di finzione perenne in cui lui impersona Enrico IV pur sapendo di non essere Enrico IV però questo diventa la metafora della vita perché noi di fatto viviamo una vita del genere noi impersoniamo qualcuno che non siamo cioè io ad esempio in questo momento sto spiegando sto impersonando il ruolo del professore di storia e filosofia che magari è un po' giovanile per cui fai video su YouTube eccetera ma questa è una maschera io non sono questo o meglio io sono questo un pochino ma sono anche tante altre cose e però per rifinirmi e perché la società mi accetti perché per essere accettati in società bisogna definirsi decido di imporre su me stesso una maschera e quindi agisco come se fossi più un attore che una persona perché impersono un personaggio capite mi sono ritagliato un personaggio la società me l'ha cucito addosso e io poi cerco di essere coerente con questo personaggio più che essere coerente con me stesso per cui io magari poi cambio poi muto poi un giorno sono una cosa un giorno sono un'altra perché questo mio essere questo mio io vero la vita è fluire è contraddizione è un'energia che va da tutte le parti e io sarei mille cose diverse però mi costringo a stare nel personaggio e questo è il destino che capita a tutti noi capita a tutti i personaggi anche spesso di Pirandello pensate a semplicemente Adriano Meis barra Mattia Pascal protagonista appunto del fu Mattia Pascal che cambia letteralmente identità no? sfruttando il fatto di vabbè c'è stato creduto morto la vincita al casino e tutto il resto perché poi chiaramente c'è da creare una trama no? però così cambia identità pensate ai 6 personaggi in cerca d'autore l'opera teatrale più famosa di Pirandello più citata in cui di nuovo entra in gioco questo essere interpreti i personaggi in cerca d'autore sono proprio personaggi che cercano qualcuno che scriva la loro storia ma di fatto sono la metafora della vita perché noi siamo sempre dei personaggi delle maschere questo c'è poi anche in Uno Nessuno Centomila che è un romanzo ben successivo rispetto al Fumatia Pascal ma che riprende gli stessi temi Fumatia Pascale forse è un po' più ironico anche Uno Nessuno Centomila è ironico ma c'è più un senso anche un po' più tragico forse un po' più pessimista della maturità di Pirandello dove anche lì Vitaliano Moscardi protagonista a un certo punto si rende conto vabbè tutto parte dal vedersi allo specchio sapete il naso e tutto il resto ma poi si rende conto che gli sono state cucite addosso dell'identità che lui non riconosce neanche più di tanto e quindi poi c'è questa difficoltà nell'accettare il volto che la società ti ha imposto qui di nuovo si sente secondo me fortissima l'eco di Kierkegaard se vi ricordate quando abbiamo parlato proprio degli degli stadi dell'esistenza lo stadio etico lo stadio estetico eccetera abbiamo detto anche della necessità di darsi un volto di capire chi si è di definirsi sia come io sia come rapporti col mondo l'esteta non ha un volto perché sceglie di non averlo e quindi questo lo fa finire per essere frantumato lo frantuma interiormente il marito invece si dà un volto sceglie di scegliere vi ricordate sempre il link in descrizione ma scegliendo di scegliere si trova anche limitato dicevamo perché lui intanto si scopre il peccatore cioè scopre di non essere all'altezza di questo personaggio che vorrebbe essere e poi diceva Kierkegaard sente la sete di infinito che la vita del marito non appaga e però mutiamolo nell'ottica di Pirandello questa sete dell'infinito in realtà è la pulsione alla vita per Pirandello l'uomo non si accontenta di essere un volto è di più di un volto è di più di una limitazione così estrema e però la società ce la impone e questo ci crea alienazione ci crea un conflitto interiore non ci riconosciamo alienazione vuol dire proprio questo essere estranei a noi stessi guardarci allo specchio e dire ma io non sono mica questo io non sono mica quello che mi sono disegnato addosso quello che mi hanno cucito addosso e questo provoca una frantumazione dell'io ovviamente perché quando non mi riconosco quando mi sento alienato non so più chi sono e questo è un altro motivo di dramma per Pirandello tra l'altro è un dramma sia interiore che nei rapporti sociali perché vi ripeto non sono solo io che cerco di darmi un volto è anche la società che mi impone un volto e qui di nuovo a me sembra anche se di nuovo è un po' un legame culturale diciamo non diretto di sentire però un eco anche del pessimismo di Freud stesso no? anche qualcosa di Jung la libido che vuole espandersi e che viene compressa ma soprattutto di Freud Freud se vi ricordate nell'ultima parte della sua vita anche qui vi lascio un link in descrizione aveva parlato del disagio della civiltà cioè del fatto che la vita in società ci impone gli diceva un superio sociale quindi una compressione della nostra libido quindi sostanzialmente un'infelicità dovuta al fatto che non possiamo veramente esprimere noi stessi la nostra carica la nostra pulsione perché ci costinge una serie di compromessi sempre al ribasso che ci rendono infelici beh questo tema del compromesso necessario imposto anche violentemente per certi aspetti dalla società sull'individuo si vede anche il Pirandello anche il Pirandello è infelice di questa scelta di questa pressione sociale che si costringe a scelte che si alienano che ci rendono infelici temi che poi ritorneranno ritorneranno di nuovo nell'esistenzialismo perché ve l'ho già detto questo è un altro dei temi carini nell'esistenzialismo francese europeo eccetera ma anche nel teatro dell'assurdo sempre per rimanere in ambito teatrale di cui Pirandello non appartiene a questa corrente ma anticipa alcuni aspetti alcune assurdità appunto del teatro dell'assurdo cioè Ionesco Beckett e altri ultima cosa su questo tema quindi la società ci impone maschere maschere che ci riducono ci fanno soffrire ci allineano però però si può provare anche a spezzare questa maschera a togliere la maschera solo che quando lo facciamo finiamo per incappare nella follia alla fine il folle è l'unico che può dire la verità che può esprimere veramente ciò che è davvero no questo lo si vede ad esempio proprio in Enrico IV in parte che avevo citato prima ma lo si vede anche in uno nessuno centomila quando poi Vitaliano Moscarda insomma non viene ben accolto dalla società quando inizia a cercare di toglierci la maschera la società ci impone le maschere e ci punisce se noi togliamo la maschera se noi proviamo a togliere la maschera ma appunto è solo se togliamo la maschera che riusciamo a dire la verità anche nel berretto a sonagli tra l'altro l'altra opera teatrale di Pirandello emerge questo tema se noi togliamo la maschera se noi ci liberiamo dalle ipocrisie dalle convenzioni sociali dalle regole che la società ci impone possiamo sentirci finalmente liberi possiamo dire veramente la verità ma verremmo subito etichettati come folli perché solo il folle dice il vero solo il folle è risposto a rischiare di rompere i rapporti con la società e far emergere la verità vera questa essenza più profonda che è però irrazionale che è però contraddittoria e quindi è folle anche per certi aspetti quindi capite che vogliamo essere sani e beh vogliamo essere sani vuol dire essere infelici vuol dire piazzarci sulla faccia delle maschere poi neppure solo una ma tante perché ogni persona ci vede in modo diverso uno nessuno centomila uno che è la maschera che io riconosco in me stesso nessuno perché non so chi sono centomila perché tutti gli altri mi vedono con maschere diverse se voglio stare in società devo consentire a questa violenza nei miei confronti a questa alienazione a cui mi condanno se voglio trovare una qualche barlume di verità con la mia lanternina mi devo condannare all'isolamento alla follia al manicomio ultimo tema che vi avevo anticipato all'inizio è il tema dell'umorismo a cui Pirandello redica un saggio tra l'altro ancora inizio carriera un saggio diciamo filosofico anche se poi è un saggio che riprende temi in realtà già sviluppati da altri quindi non è di per sé è originalissimo ma è importante per capire il pensiero di Pirandello che poi verrà applicato in tante opere cosa intende per umorismo e perché è importante per la filosofia allora intanto Pirandello in quest'opera distingue tra comico e umoristico tra comicità e umorismo dicendo che entrambe queste due dimensioni partono da qualcosa di simile ma hanno un atteggiamento diverso e quel qualcosa di simile è il contrario così viene chiamato da Pirandello il comico consiste nell'avvertimento del contrario il umoristico consiste invece nel sentimento del contrario che differenza c'è per farcelo capire Pirandello fa un celebre esempio poniamo che voi vediate una vecchia signora per strada che è tutta imbellettata dice lui cioè truccata in maniera eccessiva vestita in maniera eccessiva che non è consono la sua età no una signora che è perfino ridicola nel tentativo di sembrare giovane tutta vecchia tutta grinzosa tutta rugosa e però si veste come se fosse una mettiamo una quindicenne che va in giro vestita come una quindicenne con l'ombelico di fuori eccetera ecco quando vediamo una cosa del genere notiamo il contrario la contraddizione in un certo senso della vita signora vecchia che però vuole essere giovane qui c'è una contrarietà un opposto vecchiaio e giovinezza ok e ne vediamo fuse in quella persona questo avvertimento del contrario ci può generare avvertire vuol dire percepire il contrario in quella persona ci può generare un effetto effettivamente comico e ci può far ridere questa signora perché è ridicola no la ridicolaggine di quella signora ma potremmo farlo stesso anche con gli uomini non è un discorso sessista riprendo il discorso di Pierandello la ridicolaggine di quella persona ci fa ridere ci strappa delle sonore risate e vabbè è questo un livello il livello del comico però c'è un ulteriore livello che non è più l'avvertimento ma è il sentimento del contrario che fa arrivare all'umorismo cosa accade poniamo la stessa donna anziana rugosa eccetera vestita come una quindicenne a un primo livello appunto appena percepiamo questa contraddizione ridiamo ma ad un secondo livello più profondo quando sentiamo più in profondità quella contraddizione interviene anche un senso di compassione potremmo dire perché vedendo sta donna prima la sentiamo ridicola per come si veste ma poi ci diciamo ma perché si veste così questa signora perché non si veste come una signora anziana forse perché dice proprio Pirandello non ha piacere di sentirsi anziana forse perché ha un marito giovane e sta cercando di tenersi aggrappato il marito no dimostrarsi ancora giovane perché ha paura che il marito la lasci perché il marito venga attratto da altre donne più giovani forse perché si sente sola forse per mille motivi allora se iniziamo a fare queste riflessioni ci rendiamo conto che quella ridicolaggine iniziale in realtà ha un fondamento piuttosto tragico no cioè in fondo cogliamo che se quella persona fa delle cose stupide ridicole che ci fanno ridere in realtà è perché sta soffrendo tutto sommato no è perché c'è una sofferenza interiore che la porta a fare queste scelte infelici no quindi sentiamo che c'è qualcosa di più profondo e quando ci accorgiamo che c'è qualcosa di più profondo proviamo non più voglia di umiliare e ridere di quella persona ma proviamo compassione per quella persona perché tra l'altro quella paura di rimanere sola che vediamo in quella persona la proviamo anche noi in fondo no non abbiamo la stessa condizione quindi magari noi non abbiamo un marito o una moglie giovane dobbiamo sembrare giovani di tutti i costi non abbiamo quel problema lì ma anche noi abbiamo quella stessa paura di essere soli di rimanere abbandonati di essere scartati e dunque vedendo che lei si comporta così per quella paura che è anche nostra ci sentiamo a lei vicini e non abbiamo più voglia di prenderla in giro abbiamo voglia di capirla la capiamo in un certo senso poi magari la troviamo anche un po' ridicola ma la capiamo quindi non ridiamo più a crepa pelle di questa signora ma invece magari facciamo un sorriso amaro davanti alla sua situazione perché un po' si ridiamo di lei ma ridiamo anche di noi stessi in parallelo perché le sue debolezze sono anche le nostre capite ed è un sorriso amaro perché in realtà alla base di queste debolezze sentiamo che c'è questo dolore di vivere questa mancanza di senso della vita che percepiamo benissimo anche noi quindi non è più la risata del comico ma è il sorriso amaro dell'umorista no? ecco Pirandello tenterà in tutte le sue opere di mettere in campo l'umorismo di mettere in campo questo sorriso amaro questi personaggi che cercano di aggrapparsi alla vita che cercano di trovare una soluzione davanti a una vita che è priva di senso che è dolorosa che è tragica difatti prima vi dicevo l'enrico IV cos'è? una tragedia o una commedia? formalmente sarà probabilmente una tragedia non sono andato a vedere cosa i critici dicono ma è una tragica commedia fa anche ridere a volte no? o meglio fa sorridere perché è ridicolo quello che accade in Enrico IV è ridicolo questo personaggio sono ridicoli tutti quelli che gli vanno attorno è davvero una scena tutta insulsa e ridicola ma è la vita che è ridicola sembra di Cipirandello e allora non solo quella dei personaggi anche la nostra è ridicola e quindi davanti a questa assurdità della vita per questo di nuovo il teatro dell'assurdo ci sono dei legami forti davanti a questa assurdità della vita noi non possiamo fare altro che o ci disperiamo e quindi ci suicidiamo oppure facciamo un riso amaro davvero vediamo che davanti alla vita e a tutte le difficoltà di questa esistenza ognuno si barcamena come può ognuno cerca di trovare un compromesso ognuno accetta una qualche maschera alla fine che è sempre dolorosa che è sempre tragedia ma almeno gli permette di tirare avanti come la signora imbellettata che si truccherà e sarà ridicola ma almeno il marito le sta ancora accanto almeno c'è una soluzione ecco l'umorismo nasce dalla contraddizione tra apparenza e realtà alla fine dei conti se guardate tra un tentativo di far sembrare che la vita abbia un senso e il fatto che quella vita il senso non ce l'ha la signora cerca di fare delle cose per dare un senso alla sua vita si veste in un modo si trucca in un modo per dare un senso alla sua vita ma in realtà è sempre lì è sempre a un passo dal baratro è sempre nel buio oscuro che tenta di accendere pure una lanternina forse un fiammifero per vederci qualcosa pur sapendo di essere in mezzo al buio oscuro come dicevamo all'inizio l'umorismo è quindi un modo per sopportare la vita alla fine è un modo per essere resilienti per usare un termine che va di modo oggi davanti alla vita la vita ci bastona la vita ci dice che niente ha senso che soffriamo che siamo allenati tutto vero però forse davanti a questa contraddittorietà della vita accettarla con spirito umoristico forse ci permette di tirare a campare e non solo accettarla per noi stessi ma anche vederla negli altri in fondo questo vedere le vite altrui raccontare le vite altrui come fa Pirandello è un percorso anche per certi versi un po' terapeutico no? perché ci permette di capire la vita e di accettarla no? perché quando io vedo questa signora imbellettato quando vedo un personaggio di un'opera di Pirandello che tenta di con umorismo sopportare la vita io un po' sorrido delle sue debolezze sorrido anche delle mie ma questo mi permette di tirare a campare no? non piango sorrido amaramente ma non piango almeno e non mi suicido capite? è un modo per è uno strumento di residenza ovviamente anche l'umorismo è una forma è una maschera sul mondo è un modo per irregimentare l'esistenza per darle una forma per cercare di definirla però in fondo è una maschera che mi permette di vivere tra tutte le maschere è forse una maschera che può essere accettabile lo stesso Pirandello come autore si fa mediatori di questo meccanismo no? perché quando ci racconta ci presenta queste vite ci invita a una riflessione a una riflessione di stampo umoristico però sulle vite altrui sulle vite dei suoi personaggi ma anche sulla nostra vita stessa ecco questi erano i temi che a me sembravano più interessanti degni di analisi all'interno della filosofia di Luigi Pirandello cercato di essere anche un po' schematico ma spero chiaro con vari esempi chiaramente volendo c'è un Pirandello un filosofo complesso un autore complesso uno scrittore complesso magari qualcos'altro si poteva anche dire ma mi sembra che già così abbiamo messo abbastanza carne al fuoco e abbiamo finito vi ricordo che in descrizione trovate come sempre i titoli che sono compersi qui per dividere il video nelle parti trovate i link a tutti gli altri video che ho citato sono citati parecchi e trovate poi i modi per rimanere in contatto col canale tramite i social network e soprattutto la newsletter gratuita e settimanale e poi cosa a cui insisto vi ricordo che questi video anche poi l'idea di fare il book club dedicato ad alcuni scrittori gli autori di cui parliamo eccetera sono possibili e a volte sono anche potenziati dall'aiuto di tanti sostenitori di questo progetto un progetto impegnativo come vedete vi dicevo 1400 video non sono pochi e poi la newsletter e poi incontri per gli abbonati c'è tanto che cerchiamo di mettere in campo però ovviamente è impegnativo quindi se volete sostenerlo fatelo se lo trovate utile sostenetelo questo vale per tutti i progetti che ritenete validi per non solo per voi ma anche per la comunità per il paese per chiunque usi questi progetti vanno sostenuti e se voi volete farlo ci vado anche con pochissimi euro o con donazioni o con libri sono tutti segnalati in descrizione su cui abbiamo una piccola quota oppure tramite l'abbonamento canale youtube dove con un abbonamento messile anche di 3 euro se volete o di più se ritenete avete in cambio anche dei vantaggi riservati c'è scrivato tutto in descrizione ma tale tante cose vi segnalo dispense di filosofia molto approfondite che vengono mandati ogni mese incontri messili per parlare di libri per parlare di filosofia una chat riservata e altro ancora dateci un'occhiata ho finito ci vediamo presto per parlare a volte anche di scrittori che hanno qualche legame con la storia e la filosofia ma anche più in generale di storia filosofia ed educazione civica ciao ciao